Ospedale Sant'Elia, 14 indagati per la morte di Antonella Geraldi, 9 medici e 5 infermieri. Operazione Condor, 9 arresti nell'Agrigentino. Droga ventenne arrestato dalla polizia dopo una perquisizione. Caltanissette incendio in via Amico Valenti. Strada Statale, via Borre, ma anzi il punto della situazione. Guale Noa, Casa Sanremo. Bentrovati, apriamo questa edizione del telegiornale con una notizia dell'ultima ora. Il servizio. Sono 14 i nomi finiti nel registro degli indagati per la morte di Antonella Geraldi all'ospedale Sant'Elia lo scorso 6 gennaio. Un atto dovuto da parte della procura nissena che ha iscritto 9 medici e 5 infermieri del Sant'Elia nel registro delle notizie di reato. Sarà il medico legale di Catania, Giuseppe Ragazzi, a sottoporre la 53enne all'esame autoptico. L'autopsia è in programma domani pomeriggio giovedì nell'obitorio dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sarà uno dei momenti cruciali dell'indagine dei carabinieri partita dopo l'esposto dei familiari della donna. Subito la magistratura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla sua morte. La Geraldi è arrivata in ospedale in preda a forti dolori addominali. Così nell'oreo successive è stata effettuata l'attacca. Poi sarebbe stato disposto l'intervento chirurgico. La morte della commerciante nissena ha destato profonda commozione in tutta la città, dove era stimata per le sue doti umane e professionali. Operazione Condor, nove arresti nell'Agrigentino, blitz dei carabinieri del Comando Provinciale e del ROS, con il supporto dei colleghi di Palermo, Trapani, Enne e Caltanissetta, del nucleo Cinofili e dello squadrone riportato Cacciatori. Mafia, estorsione e traffico di droga. E' questa la cornice investigativa che all'alba di questa mattina ha dato il via all'operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento e del ROS, con il supporto dei militari dei Comandi Provinciali di Palermo, Trapani, Enne e Caltanissetta, del nucleo Carabinieri Cinofili e dello squadrone riportato Carabinieri Cacciatori. Il blitz ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale DDA, a carico di nove persone, cinque delle quali destinatari e della custodia cautelare in carcere, quattro agli arresti domiciliari, mentre a una è stata imposta l'obbligo di dimora. Quest'ultimi sono gravemente indiziate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Inoltre sono state eseguite 23 perquisizioni personali e locali, di cui tre in carcere, nei confronti dei destinatari dei provvedimenti e di altri indagati a vario titolo nello stesso procedimento penale. La maxioperazione, denominata Condor, scaturisce dalle indagini condotte dai militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Agrigento e da quella denominata Xidi, condotta dalla ROS e che già nel febbraio 2021 aveva registrato una prima fase esecutiva. Le indagini coordinate dalla DDA di Palermo hanno consentito di conoscere e scoprire gravi indizi sull'assetto mafioso nel territorio di Favara e in quello di Palma di Montechiaro, quest'ultimo caratterizzato come accertato da sentenze definitive, dalla convivenza dell'articolazione territoriale di Cosa Nostra e di formazioni criminali denominate paracchi sul modello della stidda. Da lì il tentativo, secondo le indagini, di uno degli indagati di espandere la propria influenza al di là del territorio palmese, principalmente a Favara e al villaggio Mosè di Agrigento. In tale ambito sono emersi gli asseriti rapporti del vertice della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro con l'Andrina Calabrese e dei Barbaro di Platì. L'operazione ha permesso inoltre di scoprire pesanti interferenze di Cosa Nostra nel settore economico, nel controllo illecito delle slot machine, oltre all'attività estortiva nei confronti di imprenditori e imprese. Le persone arrestate nell'operazione Condor sono Nicola Ribisi, 42 anni, disoccupato di Palma di Montechiaro, Domenico Lombardo, 30 anni, commerciante di Agrigento, Giuseppe Chiazza, 51 anni, disoccupato di Palma di Montechiaro, Giuseppe Sicilia, 44 anni, di Favara, già detenuto nel carcere di Novara, e Baldo Carapezza, 27 anni, operaio di Palma di Montechiaro. I domiciliari sono stati disposti dal GIP per Ignazio Sicilia, 47 anni, manovale di Favara, Salvatore Galvano, 52 anni, manovale di Agrigento, Francesco Centineo, 38 anni, disoccupato, residente a Palermo, e Giovanni Gibaldi, 35 anni, di Licata. Obbligo di dimora nel comune di residenza e obbligo giornaliero di presentazione negli uffici della Polizia Giudiziaria, infine, per Luigi Montana, 51 anni, di Ravanusa. Droga. Ventenne arrestato dalla Polizia dopo una perquisizione, sequestrati 35 involucri contenenti marijuana e due con cocaina e hashish. Segnalato un ragazzo trovato in possesso di un coltello. Il servizio. I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un ventenne per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì sera un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso di servizi di controllo del territorio, ha effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane, nel centro storico della città. In casa gli agenti hanno subito avvertito un odore persistente e in diversi punti hanno trovato 35 involucri di stagnola contenenti marijuana e altri due involucri con cocaina e hashish. Sequestrato anche materiale utilizzato, a quanto pare, per il confezionamento della droga. L'arrestato è stato condotto in questura per le formalità di rito e, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica, è stato successivamente posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'interno dell'abitazione era presente anche un ragazzo che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il locale tribunale per i minorenni per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché è trovato in possesso di un coltello. Un incendio in via Amico Valenti a Caltanissetta è intorno alle 13. A fuoco un furgone, intervento necessario quello dei pompieri. Momenti di paura intorno alle ore 13, oggi a Caltanissetta, in via Amico Valenti, dove un furgone, per cause ancora in corso di accertamenti, è andato a fuoco e immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco scongiurando il peggio. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla parte anteriore del mezzo, in sosta all'inizio della via, a due passi dalla via Borremans. Le fiamme si sono divambate provocando un'enorme nube nera, bruciacchiando la pensilina di un negozio di vicino. Solo un grande spavento per il conducente del furgone e per i negozianti della via che hanno vissuto questi momenti di terrore è paura. Il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, ha accolto 13 nuovi agenti della Polizia di Stato provenienti da altre questure d'Italia assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al Commissariato di Gela. I poliziotti saranno impiegati per rinforzare i servizi di controllo del territorio, si legge in una nota, servizi che saranno rinforzati anche nel capoluogo con l'assegnazione alla sezione volanti di sette agenti. Il questore, alla presenza del capo di gabinetto vicequestore Francesco Bagniera e del dirigente del Commissariato di Gela vicequestore Felice Puzzo, nel dare il benvenuto ai nuovi arrivati ha augurato agli agenti un buon lavoro. Parliamo adesso della strada statale 640 della via Borremans. Si fa il punto della situazione a parlare l'assessore comunale Marcello Frangiamone. Ad oggi molti cittadini nisseni si chiedono come vanno i lavori della strada statale 640 della via Borremans. Una situazione è quella dei lavori che vanno molto a rilento e i cittadini chiedono spiegazioni sul perché si vada così a rilento causando disagio agli automobilisti. Per saperne di più ne abbiamo parlato con l'assessore lavori pubblici Marcello Frangiamone. Per quanto riguarda i lavori della strada statale 640 abbiamo osservato che l'ANAS ha rallentato un po' i lavori o perlomeno non li ha mai più ripresi come dovevano essere all'origine. Producono veramente poco e vanno molto a rilento. Noi come amministrazione, il sindaco in prima persona ci stiamo addosso perché vogliamo che questi lavori potessero mettere la parola fine perché stanno diventando una cosa che è veramente lunga. Per quanto riguarda la 640 e la parte terminale che ingloba anche la via Borremans questa è stata di recente sottoposta a una perizia di variante, la perizia numero 4 che il comune di Caltanissetta ha già da parecchio tempo esitato e infatti stiamo pressando moltissimo ANAS perché avvii i lavori perché possa completare sia l'aspetto legato alle gallerie sia i vari passaggi, le aperture dei vari incroci per l'accesso all'autostrada e sia anche, non per ultimo, ma diciamo per noi anzi come attività prioritaria quella del rifacimento della via Borremans. Beni immobili comunali, una riunione della quarta commissione consigliare problematiche che riguardano la valutazione e l'assegnazione dei beni immobili comunali con una particolare attenzione ai locali ubicati allo stadio Tomaselli questo alla base della riunione della quarta commissione consigliare di Palazzo del Carmine problematiche inerenti la valutazione e l'assegnazione dei beni immobili comunali con particolare attenzione ai locali ubicati allo stadio Marco Tomaselli questo uno dei punti inseriti all'ordine del giorno nella convocazione della quarta commissione consigliare permanente convocazione stessa anche capigruppo senza diritto di voto se non componenti della stessa commissione la questione dei locali dell'impianto di Piannellago era già stata trattata in passato dal consigliere comunale Michele Doro nonché presidente della stessa commissione un anno fa circa ho fatto questa interrogazione per valorizzare i locali che si trovano all'interno dello stadio Tomaselli potrebbero essere di grande aiuto per l'attività delle associazioni federazioni che qui svolgono la propria attività e quindi anche da presidente della quarta commissione bilancio e patrimonio ho indotto la commissione a lavorare su questo tema domani abbiamo un ordine del giorno che comprende anche questo argomento vorremmo che l'amministrazione tramite i suoi assessori andaloro al patrimonio caracausi allo sport finalmente regolarizzasse la situazione di quelle società che hanno già dei locali in uso o ne assegnasse di altri secondo il regolamento che abbiamo predisposto in consiglio comunale oltre un anno e mezzo fa il comune potrebbe introitare delle somme o richiedere delle attività di compensazione non so magari far praticare lo sport gratuitamente ai bambini che ne hanno necessità e cose del genere noi nelle scorse sedute abbiamo riesaminato questo regolamento e domani faremo il punto redigeremo una nota da inviare all'amministrazione con la quale appunto raccomanderemo con Solersia di mettere a posto tutte le autorizzazioni che sono necessarie in questo momento San Cataldo protocollo di intesa per innalzare i livelli qualitativi dei servizi parla il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato sottoscritto a San Cataldo un protocollo di intesa tra Comune e Feder Consumatori Udicon e Movimento Consumatori Sicilia l'obiettivo è quello di migliorare i servizi resi alla cittadinanza si dà la possibilità anche ad altre associazioni dei consumatori di poter aderire intanto il protocollo permetterà di creare uno scambio di informazioni tra le parti sulla qualità dei servizi ma soprattutto di effettuare un'azione di monitoraggio non soltanto di reclami e osservazioni dei consumatori ma anche del rispetto da parte dell'ente delle carte dei servizi dobbiamo del resto lavorare per migliorare le nostre carte dei servizi afferma il primo cittadino sancataldese e crearne di nuove per quei settori in cui le stesse non sono ancora state formulate adeguarle, renderle più efficaci collegarle al lavoro dei dipendenti comunali aggiunge ed estenderne l'applicazione anche in un'ottica di miglioramento dei servizi offerti dal Comune costituito dunque un tavolo di lavoro permanente che si occuperà anche di assistere i cittadini in merito a reclami relative ad eventuali disturbi del Comune il prossimo incontro è previsto a fine mese Continua il nostro impegno per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa del Comune è stato stilato la settimana scorsa un protocollo d'intesa tra il Comune di San Cataldo e le associazioni di consumatori associazioni di consumatori che saranno chiamate a verificare tutte le prassi amministrative del Comune saranno chiamate a contribuire a migliorare l'efficienza del Comune saranno chiamate a lavorare insieme al Comune per la predisposizione e la messa in opera delle carte dei servizi relative a tutti i servizi comunali questo è un importante passo è un importante passo perché ancora una volta questo Comune diventa trasparente nei confronti della città e di tutta la cittadinanza e abbiamo coinvolto proprio quei soggetti che per legge sono deputati ad un controllo ad un controllo sull'agire del Comune ci aspettiamo che le associazioni consumatori e il prossimo incontro con queste sarà il 31 di gennaio siano severe nell'evidenziare quelle che sono le problematiche all'interno del Comune e i strumenti messi in opera per riuscire a risolverle smarriti 100 euro un avviso del Comune di Caltanissetta che invita il legittimo proprietario a presentarsi all'ufficio economato per la restituzione con un avviso pubblico l'ufficio economato del Comune di Caltanissetta rende noto che con un verbale di rinvenimento oggetti smarriti è stata rinvenuta la somma di 100 euro pertanto si invita il legittimo proprietario a presentarsi presso l'ufficio economato per ulteriori chiarimenti abbiamo chiesto alla responsabile Patrizia Falzone come il proprietario possa essere riconosciuto certo non è facile trovare dei criteri di identificazione della moneta però intanto la procedura prevede che l'oggetto smarrito venga consegnato all'economato venga fatto un avviso per un anno e dopo un anno se non si è trovato il proprietario questo soggetto rinvenuto colunque stesso sia viene a rendere nella proprietà nella sfera privata del ritrovatore certo trattandosi di soldi che se dovesse venire un cittadino a rivendicare questa somma noi cercheremo di fare degli investigatori privati chiedere quando l'ha perso, dove l'ha perso, in quali circostanze perché queste non le conosciamo perché ce le dice, ce le attesta il ritrovatore e da quanti pezzi è composta quella somma e qui insomma di solito comunque non vengono a reclamare i soldi, abbiamo finora capitato che i soldi sono andati nelle tasche del ritrovatore perché chi perde i soldi non pensa mai non so perché al fatto di venire all'ufficio economato e magari diffondendo questa voce attraverso questo mezzo magari si viene a sapere in maniera più diffusa Living Lab Sicilia Centrale in carico per il servizio di responsabile della comunicazione e dell'animazione del progetto nominata la commissione per l'esame delle istanze nominata la commissione che si dovrà occupare dell'esame delle istanze che dovevano essere presentate entro le ore 12 del 4 gennaio per la selezione della figura di responsabile della comunicazione e dell'animazione nell'ambito del progetto del comune nisseno Central Sicily Lab che prevede la realizzazione di un laboratorio digitale avanzato a servizio e supporto dell'innovazione sociale e organizzativa delle terre del nisseno si legge nel documento e focalizzato su tecnologie e servizi adeguati ad un territorio epicentro dello stile di vita mediterraneo progetto da finanziare con fondi europei previsti nell'azione del GAL con questo progetto che è stato poi ammesso a finanziamento il comune di Caltanissetta ha partecipato all'avviso del GAL Terre del Nisseno che intendeva infatti informare il territorio dell'iniziativa volta alla costruzione del Living Lab delle terre del nisseno si precisa ancora e invitare i soggetti appartenenti alla quadrupla elica cioè le pubbliche amministrazioni, le istituzioni locali le scuole, le università, le imprese, la società civile gli enti del terzo settore, le associazioni, il sistema della ricerca e i ricercatori in possesso di specifici requisiti a manifestare il proprio interesse a partecipare all'iniziativa e alla successiva attività di progettazione partecipata e collaborativa apportare il contributo di idee e di conoscenze utili e necessarie alla definizione dei contenuti del progetto esecutivo dell'intervento Living Lab impegnarsi alla realizzazione di tutte le successive fasi del Living Lab sottoscrivendo un apposito accordo protocollo di intesa e infine si legge ancora partecipare all'eventuale progettazione esecutiva quando si parla di Living Lab ci si riferisce ad un ambiente esperienziale in cui gli utenti sono immersi, vivono per l'appunto in uno spazio creativo si precisa ancora nella determinazione da cui nasce la progettazione sociale e prendono vite, servizi e prodotti del futuro Libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale l'Inps ha al lavoro per ricepire le novità della legge di bilancio 2023 Sono in arrivo novità interessanti per quanto riguarda il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale l'Inps ha al lavoro per ricepire i cambiamenti presenti nella nuova legge di bilancio nello specifico la legge di bilancio 2023 introduce novità importanti per il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale in particolare dal 1 gennaio 2023 è previsto l'aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall'utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro l'accesso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e il superamento dei precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori per le imprese agricole inoltre sono introdotte forme semplificate d'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo indeterminato il nuovo regime specifico prevede tra l'altro l'inoltro della comunicazione obbligatoria di assunzione al competente centro per l'impiego l'Inps infine sta lavorando per adeguare i sistemi informativi alle novità normative con progressivi aggiornamenti a decorre dal 1 gennaio 2023 e per completare le modifiche della sezione dedicata alle imprese del turismo entro questo mese ha annunciato il direttore generale dell'Inps Vincenzo Caridi La band Nissena Wale No si esibirà a Casa Sanremo appuntamento per gli artisti emergenti di levatura nazionale dal 7 all'11 febbraio Ciao a tutti Noi siamo Wale No Anche noi ci esibiremo a Casa Sanremo Live Box il cuore pulsante della musica italiana dedicata agli artisti emergenti Ci vediamo Sanremo È la band dei Wale No che approderà a Sanremo per Casa Sanremo Live Box vetrina nazionale di rilievo per gli artisti emergenti dal 7 all'11 febbraio Hanno superato le selezioni lo scorso novembre a Caltanissetta alla Accademia Formazione Musicale di Ernesto Trapanese partner ufficiale di Casa Sanremo arrivando così a potersi esibire direttamente a Casa Sanremo Live Box vetrina d'eccellenza un progetto musicale nato due anni fa per la passione per la musica che unisce questi quattro ragazzi che tra sonorità, punk rock e musica pop hanno trovato uno stile tutto loro i Wale No sono Carla Giordano alla voce e Marcello Lachina alla chitarra elettrica Filippo Gruttadauri al basso elettrico e Gaetano Puccio alla batteria Il gruppo è nato circa un anno e mezzo fa diciamo per divertimento poi si è trasformato in una sorta di lavoretto estivo tramite serate nei vari locali e adesso speriamo di farlo diventare qualcosa di più serio anche con questa occasione che ci è stata data questa occasione è nata diciamo per caso perché in una di queste serate estive abbiamo conosciuto Manuel che ci ha proposto di iniziare a lavorare a un album, un piccolo EP successivamente iniziando a lavorare a questo album è nato fuori un inedito che a noi piace molto e abbiamo deciso di proporlo a casa Sanremo Live Box abbiamo superato le audizioni e fortunatamente adesso a febbraio saremo lì a farlo sentire comunque niente perché la voglia il sogno nel cassetto ad oggi è quello di continuare su questa strada e farlo diventare un lavoro a tutti gli effetti Dalla scorsa estate hanno iniziato a lavorare con l'etichetta FM Wave del produttore Manuel Scarano al loro primo EP che conterrà 5 brani 2 originali, 3 cover e sarà anticipato dall'inedito Fairy Tales Ora il prossimo servizio Archiviata la bella vittoria di domenica scorsa contro il Casteldaccia in casa Nissa è iniziata la settimana con la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica 15 gennaio in trasferta a Marineo contro l'ostico Oratorio San Ciro e San Giorgio Ancora sotto gli occhi di tutti la buona prova del Tomaselli con un primo tempo davvero incredibile per gli uomini di Alessio Sferrazza che non hanno lasciato scambo al malcapitato Casteldaccia La gara è stata impreziosita con la presenza dell'imprenditore piemontese Luca Giovannone che ha dichiarato di avere un progetto importante per la squadra e si punta al salto di categoria nella stagione 2023-2024 Ma adesso bisogna pensare al presente e il presente è appunto la trasferta di Marineo di domenica prossima La squadra palermitana viene dal pareggio di Mazzara ed è in striscia positiva da tre partite e vuole continuare su questo trend Anche i biancoscudati vogliono continuare a vincere e sognare la zona playoff vero obiettivo stagionale e quindi la trasferta di domenica può rappresentare un passo importante per poi puntare al big match del 22 gennaio al Tomaselli contro la capolista Agragas Per quanto riguarda il mercato in settimana si aspettano gli annunci di Modula e altri due tasselli importanti per completare l'organico È arrivato il transfer che consentirà al centrocampista argentino Agustin Modula di essere già domenica a disposizione del tecnico biancoscudato Alessio Sferrazza Modula classe 1993 ha giocato nella primera divisione nella stagione 2017-2018 collezionando ben dieci presenze proviene dal club iberico Guadalajara militante nella tercera divisione oltre a lui è annunciato anche l'arrivo dell'attaccante uruguayano Lucas Vignone di Montevideo classe 1998 proveniente da un club sudamericano il giocatore ha sostenuto oggi il primo allenamento Passiamo adesso a parlare di rugby gli obiettivi della Nista Rugby al quindicesimo anno di attività Archiviato il 2022 la Nista Rugby è pronta ad un 2023 ricco di progetti, impegni e passione Tra bilancio dell'anno appena trascorso e proponimenti per quello che inizia il direttore sportivo Andrea Logelso sfoglia il calendario dei prossimi mesi e inizia la sua disamina con un macigno che ha condizionato non positivamente la parte iniziale della stagione sportiva Quest'anno festeggiamo il nostro quindicesimo anno di attività consecutiva dichiara Logelso e al centro di quest'anno doveva esserci il Tomaselli con un imbiando polivalente di ultima generazione casa del rugby e del calcio Purtroppo così non è stato Intanto è doveroso ringraziare l'ex sindaco Ruvolo e la sua giunta che non esitarono a credere al nostro progetto e all'ex presidente regionale della FIRO Razio Arancio Ben sei anni sono passati tra polemiche, problemi, impedimenti e ben due volte sempre noi alla Federazione Italiana Rugby siamo usciti a salvare questo finanziamento a fondo perduto Mi preme lo stesso comunque ringraziare questa amministrazione la persona del sindaco Gambino, dell'assessore Caracausi e dell'ufficio tecnico che nonostante tutto hanno portato a termine il progetto e consegnato il campo alla città Sarà un anno difficile dove continueremo la nostra attività cercando di progettare la stagione agonistica 2003-2024 dichiara lo Celso Per fare questo però abbiamo bisogno di stabilità indesa come location e logistica una stabilità che solo l'amministrazione può darci La nostra missione è quella di far crescere bambini e bambine che passano a dare domani un contributo alla città di Caltanissetta Quest'anno abbiamo anche iniziato un nuovo progetto dedicato ai piccolissimi under 5 e 7 Nista Rugby Kids è un progetto in cui crediamo tanto e che stiamo portando avanti con enorme passione Gli indizi di far bene sono le tante famiglie che ci hanno affidato i loro bambini Il progetto è quello di svolgere attività per i piccoli in uno spazio adeguato come quello del palazzetto Palamilan che ci permette di poter lavorare in enorme sicurezza Questa edizione del nostro telegiornale termina qui Vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità Restate con noi Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo Nella giornata di giovedì una debole perturbazione sfilerà verso le regioni del sud determinando qui un nuovo peggioramento mentre sul resto d'Italia il tempo sarà complessivamente discreto Osserviamo la grafica della nuvolosità che ci mostra come questo nuovo fronte nuvoloso attraverserà proprio le regioni centro-meridionali determinando qui un peggioramento mentre sul resto del nord soprattutto il clima sarà asciutto con solo frequenti velature in transito Più nel dettaglio lo zoom delle precipitazioni notiamo come saranno soprattutto le regioni meridionali ad essere interessate da pioggia, carattere sparso, qualche temporale ma anche nevicate sull'appenino meridionale Più nel dettaglio quindi della previsione notiamo una giornata di giovedì complessivamente soleggiata al centro nord un po' di variabilità residua sul medio versante adriatico tempo più stabile invece sulle regioni del sud, sulla Sicilia qui ci sarà una maggiore instabilità dettata proprio da questo passaggio nuvoloso questa perturbazione che porterà piogge rovesci a carattere sparso nevicate a partire dei 1200-1400 metri di quota sulla dorsale meridionale e comunque la situazione andrà lentamente migliorando entro la fine del giorno ma per maggiori dettagli sulle vostre località consultate l'app di Trabi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, San Pio X, Via Napoleone-Colaianni Servizio notturno, Centrale, Corso Umberto Servizi di pubblica